Ripetute, oggi ripassone! Care amiche e amici di Runner451, benvenuti a un nuovo video qui sui nostri canali. Se non lo avete fatto, iscrivetevi per più di 300 video consigli sulla corsa. Ne pubblicherò nuovi, ne pubblico nuovi ogni settimana. E lasciate un like alla fine di questo video, ovviamente, se vi è piaciuto. Per questo, vedetelo fino alla fine. Ripetute, ne abbiamo già parlato in tanti video. Delle ripetute in generale, delle ripetute per la 10, per la mezza, per la maratona, cercando nel canale, le troverete. Oggi facciamo un ripassone generale, molto, molto importante, in cui estrapoleremo i punti più importanti delle ripetute e che dobbiamo avere sempre bene in mente. Partiamo dal nome dell'allenamento. Ripetute, quindi, che cosa vi suona in testa? Che bisogna ripetere più volte delle fasi. I nomi dell'allenamento della corsa hanno sempre dentro un significato. Alcuni si legano alla durata, ad esempio il lungo. Alcuni all'intensità, fondo lento, fondo medio, corto, fondo veloce. Altri alla struttura, come le ripetute. Le ripetute fanno parte di una famiglia più grande di allenamenti, di allenamenti intervallati, dove si ripetono appunto degli intervalli. Possiamo mettere dentro il fartlek, con tutte le sue variazioni, l'interval training. Una parentesi importante. L'allenamento, anche se si chiamasse paperino, comunque vi deve far concentrare su come è disegnato, sulla struttura dell'allenamento. Non vi dovete far fuorviare dal nome, ma vi dovete far guidare dal nome. Dopo vi spiegherò meglio che cosa voglio dire con questa cosa. Come abbiamo capito, le ripetute, che cosa si fa? Si alterano fasi veloci a fasi di recupero, che non è detto che siano fasi lenti. Vedremo anche questo fra poco, quando andremo a vedere alcuni esempi di ripetute. Come tutti gli allenamenti, li dobbiamo dividere in tre fasi. Una fase di riscaldamento fondamentale per ripetute, il corpo centrale dell'allenamento, appunto dove avremo queste fasi intervallate, ripetute, che si alternano tra fasi veloci e fasi lenti, e poi una fase finale di tifaticamento. Cerchiamo di non saltare nessuna di queste tre fasi, perché ovviamente il corpo centrale è il cuore dell'allenamento, ma anche le altre due fasi sono importantissime per lo sviluppo di questo e di tutti gli allenamenti che fate nella corsa. La prima cosa che c'è da fare quando si fanno le ripetute è avere ben in chiaro l'obiettivo dell'allenamento. E da che cosa dipende l'obiettivo dell'allenamento? Intanto, da che cosa sto preparando? Da che fase, in che momento sono nella mia preparazione? Sono lontano dalla gara? Sono a pochi giorni dalla gara? Sono all'inizio della fase specifica? Anche questo conta. E poi potrebbe contare, lo potete valutare voi o col vostro allenatore, quali sono i vostri gap attuali rispetto a quello che state preparando, perché poi le ripetute potrebbero andare anche ad aiutarvi, non solo da sole ovviamente, a colmare questi gap. Quindi questi tre aspetti sono fondamentali. Questo che cosa ci accende? Che campanellino ci fa suonare nella testa? Che le ripetute non sono sempre uguali, non sono tutte uguali. Uno, un errore che succede spesso nell'esecuzione delle ripetute è che il runner legge ripetute e fa l'equazione devo correre alla morte. Non è sempre così, come vedremo anche questo a breve. L'importante è avere ben chiaro l'obiettivo della seduta, da lì si disegnerà la seduta di ripetute, che avrà tantissime variabili. Le due fasi determinanti del disegno della ripetuta sono la fase veloce e la fase di recupero. Ovviamente la velocità dipenderà dalla distanza o dalla durata, perché potremmo avere ripetute basate sui chilometri o in centinaia di metri, o sul tempo. Sul tempo potrebbe avere un po' più senso, perché il nostro organismo ragiona, se vogliamo dire così, in minuti di intensità, non in chilometri. Però è chiaro che avendo un'andatura da seguire, quindi un carico esterno, un passo da seguire, e una durata, possiamo tradurlo facilmente in una distanza e poi le gare si svolgono in distanza. L'altra fase importante è il recupero, che spesso non viene considerato. Quindi, ad esempio, dire oggi devo fare un 6x1000 vuol dire tanto, ma non vuol dire niente. Nel senso, 6x1000, ma quei 1000 a che intensità devono essere? Non devono essere per forza al massimo, perché se i 6x1000 uno cerca di farle all'intensità corrispondente, più o meno al suo massimo consumo d'ossigeno, probabilmente dopo il terzo per 1000 inizierà ad accusare e non riuscirà a finire la seduta di ripetute. Quel 6x1000, ad esempio, si potrebbe fare alla velocità dei 3000, ma poi che cos'è che dipende? Dalla durata e dell'intensità del recupero. Vediamo i recuperi, quindi, nelle ripetute. I recuperi possono essere da fermi, possono essere camminati barra in jogging su pless, chiamato come volete, ma una corsetta proprio leggera di recupero, corsa lenta, ma possono essere anche a corsa medio, a velocità elevate. Ovviamente un po' più lente della fase veloce, questo è chiaro. Tutto questo dipenderà dal punto precedente, dall'obiettivo della mia seduta, e nell'obiettivo della mia seduta è legato in che fase sono, ok, della mia preparazione. Facciamo alcuni esempi. Finita la fase di costruzione, quindi sono molto lontano dalla mia gara obiettivo, inizio a fare dei lavori di velocità, in questo caso ripetute, ad esempio, per alzare il mio massimo consumo d'ossigeno. Queste ripetute non saranno mai su lunghe distanze, potranno essere ripetute brevi o medie, massimo diciamo il chilometro, poi anche questo dipende dall'atleta, ogni allenamento va personalizzato, e l'intensità sarà molto alta, in questo caso il recupero potrà essere tranquillamente blando, proprio per abbassare il battito cardiaco. Perché si fanno le ripetute? Si fanno le ripetute perché io voglio riuscire ad alzare il tetto dei miei parametri, e per farlo devo correre al massimo dell'intensità, o a seconda, ripeto, di quello che stiamo preparando, al massimo di quella caratteristica che voglio allenare, e questo però non riesco a farlo per molto tempo, sia fisicamente che mentalmente. Il lavoro di ripetute mi aiuta a portarmi oltre i miei limiti, perché riesco a farlo per un periodo limitato. Ovviamente in questo caso, ripeto, lontano dalla gara, devo alzare il massimo consumo d'ossigeno, posso utilizzare breve sessioni ad altissime intensità con recuperi quasi completi. Potrei fare anche un recupero da fermo? Assolutamente sì. Ad esempio, se io corro su brevi distanze, voglio migliorare la mia capacità di correre con tanto, diciamo, acido lattico, anche diciamo in una situazione acida a livello muscolare, e con tanti scarti, il fatto di recuperare da fermo rallenta lo scarto di tutte le scorie che ho prodotto nella fase precedente ad alta intensità, e quindi potrebbe sembrare un recupero che aiuta di più il recupero, ma in realtà rende più disagevoli le fasi veloci. Ora, invece, pensiamo a altri esempi. Sto preparando una diecena e mezza e non manca troppo, sono le ultime 4-5 settimane. Allora potrebbe aver senso inserire dei lavori di ripetute, non da soli, potremmo continuare a fare delle ripetute a maggiore intensità con recuperi abbastanza blandi, però potrei iniziare a inserire dei lavori, che possiamo chiamare anche farti, variati, come volete, in cui non esiste una fase in cui io faccio corsa blanda, ma esistono delle fasi a buona intensità, ad esempio sto preparando una dieci e posso fare alcune fasi alla velocità dei tre e dei cinquemila, e però posso fare dei recuperi a corsa lenta, a corsa media, o anche per i più bravi addirittura al ritmo della mezza. Esempio altro, molto importante, preparazione della maratona, che qui spesso si fa l'errore di continuare a fare solo ripetute ad alta intensità. Inserire delle ripetute in cui, ad esempio, il ritmo più veloce può corrispondere a una mezza, al ritmo della mezza maratona o poco più veloce, e il recupero al ritmo maratona insegnerà il mio corpo a percepire il ritmo maratona in maniera più facile, ma soprattutto a riuscire a conservarlo quando le situazioni, quindi ad esempio dopo il 25-30esimo chilometro, iniziano ad essere più complicate dal punto di vista psichico e fisico. Quindi vedete come una ripetuta per una maratona è molto distante da una ripetuta lontano dall'obiettivo in cui voglio migliorare, ad esempio il massimo consumo d'ossigeno o la mia soglia anaerobica. Quindi come abbiamo visto le ripetute possono essere utili in tantissimi casi. Cosa succede? Il runner principiante dice vorrei migliorare, chiede all'amico oppure cerca sul web come fare a migliorare, gli viene detto fai le ripetute. Lui si sente un po' spiolet, perché come abbiamo visto la famiglia delle ripetute è ampissima, quindi magari va a fare un 5x1000 dove il primo 1000 dà tutta la sua vita e dopo gli altri li fa sempre peggio. Ora quindi vediamo gli errori più grandi da non fare nell'esecuzione delle ripetute. Beh, il primo errore è di non fare un ottimo riscaldamento. Il riscaldamento per i lavori ad alta e media intensità deve essere più attento e più completo rispetto a un fondo lento. Quindi cosa vuol dire? Devo curare la mobilità articolare, devo fare diverse fasi di andatura, posso inserire, anzi dovrei inserire una serie di allunghi per preparare il mio corpo all'esercizio importante che devo affrontare. Un altro errore l'abbiamo visto, se leggo ripetute non vuol dire devo correre alla morte, ma devo seguire il disegno delle ripetute. E in questo un altro errore, se io ho 8 ripetute lasciamo stare distanze e intensità, ma la prima e l'ultima, e ovviamente tutte quelle di mezzo devono venire abbastanza simili, non dico identiche, ma abbastanza simili. Non devo avere un calo delle prestazioni, non devo avere anche una crescita esagerata alla fine, perché vuol dire che all'inizio sono stato troppo conservativo. Anche se, se ho dei dubbi sull'intensità da tenere, ci può stare che il primo e il secondo esercizio di ripetute io lo mantenga un po' più cauto, un po' più prudente, proprio per saggiare, sia se quella è la mia vera intensità da seguire, sia soprattutto se è la giornata giusta per farle al meglio. Altro aspetto, che non è un errore, ma che dobbiamo considerare qui sulle ripetute, è che non è detto che io nella settimana, nel periodo successivo, deva per forza alzare l'andatura, l'intensità delle ripetute, ma potrei anche giocare sul recupero. Esempio, faccio un 8x1000, con il recupero 2 minuti, e vedo che inizia ad essere abbastanza agevole, ma invece di alzare l'intensità, accorcio il recupero a 1 minuto e 30, o anche a un minuto. Questo potrebbe essere molto, molto utile, che vuol dire che sono capaci di correre ad alta intensità, sempre per più tempo, accorciando il tempo di recupero. Un altro errore che si compie, è quello di aggiungere ripetute, come se fosse il sale sulla carne. Assolutamente, attenzione, quando vedo che i risultati non arrivano, non penso, adesso aggiungo una serie di ripetute, così alzo la forma. Spesso è proprio il contrario. Spesso, se in periodi in cui faccio molti lavori, a me di alta intensità, sento che la forma non arriva, mi sento stanco, abbiamo bisogno di inserire della bassa intensità, di rigenerarci, di recuperare, di far rifiatare il nostro corpo, che è un magico strumento, una magica macchina, e quando parlo di corpo, parlo di tutto, testa, gambe, cuore, come avrete letto sicuramente nel mio libro, l'equilibrio della corsa, non l'avete fatto? Fatelo, perché inserire dell'alta intensità, quando non arrivano i risultati, è l'errore più grande che si possa fare. Quando non arrivano i risultati, ci prendiamo un periodo di rigenerazione, non è detto di stop della corsa, ma comunque aumentiamo la quantità, di bassa intensità, facciamo recuperare il nostro corpo, e poi potremmo riniziare ad inserire i lavori specifici. Questo poi dopo è utilissimo ragionarlo in forma di periodizzazione dell'allenamento, quindi periodizzazione e poi successivamente programmazione dell'allenamento, dove potrete trovare altri video e altri articoli che ho scritto in merito. Ora spero di avervi aiutato a rendere più chiaro l'idea sulle ripetute, sia i runner principianti, sia quelli che li corrono da vent'anni, potrebbero aver trovato qualche spunto interessante. Noi ci vediamo a un prossimo video, mi raccomando, cliccate sull'iscrizione, soprattutto cliccate sul prossimo video che l'algoritmo di YouTube vi consiglia del mio canale, sicuramente vi sarà utilissimo. Ci vediamo al prossimo video, buone corse, ciao!